Restano lunghe nell'ospedale di Sulmona e nell'asla Vezzano-Sulmona-L'Aquila per la grave e conclamata carenza di organico. Ma basta macinare qualche chilometro in più per rendersi conto che le cose non vanno meglio. Nell'ospedale di Popoli per un'ecografia all'addome, la prima data utile è disponibile a novembre. A farne le spese l'altro giorno è stato un pratolano che si è recato nel cup del nosocomio popolese per prenotare la prestazione sanitaria e fare la mara scoperta. Tuttavia lo stesso esame è disponibile per la prossima settimana se svolto a pagamento. Una vicenda che ha dell'incredibile, come sottolinea l'utente. Stiamo parlando di una differenza economica non proprio ingente. Dai 30 euro con il ticket della ricetta medica al costo della prestazione a pagamento. Ma è il principio che spaventa. Nello stesso ospedale, per lo stesso esame, probabilmente con le stesse figure professionali, se si paga di più bastano tre giorni di attesa, si sfoga l'uomo. E la fotografia di una sanità non sempre accessibile a tutti, soprattutto ai meno abbienti, nell'epoca del caro.